Luisa, gira, gira! Si apre la 71esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il red carpet inaugurale. Sfilano sul tappeto rosso la madrina Luisa Ranieri insieme al direttore del festival Alberto Barbera, seguiti dalle giurie internazionali. Giùppa, giùppa! Guarda qua, giùppa! Di side! All together, giùppa! Grande fermento tra il pubblico per Team Rot e Carlo Verdone. Tra gli ospiti, la bella Bianca Balti, testimonial di L'Oreal, sponsor del festival. Grazie! Grazie! Franca Sozzani, Morana Tias e in chiusura, il cast e il regista di Berman, film di apertura di Alejandro González Signarritu con Emma Stone, Edward Norton e il protagonista Michael Keaton. Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.